Continua il delicato febbraio dell'Ital Service. Un mese inaugurato con la sconfitta a testa alta di Napoli, casa della capolista, in cui i pesaresi hanno messo il muso avanti due volte con Murillo Schiochette e Pires prima di cedere alla forza della leader del torneo, che ha vinto per 5-2. Una sconfitta che ha riportato Pesero dentro la zona play-out. Per uscirne in fretta bisogna tornare a vincere. Un'impresa non semplice nell'immediato contro il prossimo avversario, Fortitudo Pomezia, che ha 6 punti in più dei pesaresi e che al contempo non perde da 5 gare. L'appuntamento è al Palafiera venerdì 10 febbraio alle 20.30 con coach Colini che punta a recuperare più pedini in organico, a cominciare da De Oliveira per aver ragione di Pomezia, che è anche la squadra più abbonata al pareggio del campionato. Ben 7 i pari. Vedi l'ultimo 3-3 col Camedosson, vedi il 3-3 con l'Ital Service all'andata. Toni Dandella e compagni vogliono tornare a vincere per presentarsi nelle migliori condizioni ai quarti di finale di Coppa Italia. Il sorteggio, infatti, spedirà Pesero in casa del Petrarca Padova martedì 14 febbraio per inseguire un posto nella Final Four del trofeo. Dal calcio 5 al basket riprenderà sabato alle 18 da un vertide la marcia al vertice dell'Ital Service Loreto Basket, che dopo aver riposato nell'ultimo turno se la vedrà con gli Umbri del club Fratta.